Cosa puoi fare anche tu per evitare che i tuoi soldi vengano sprecati in progetti inutili per le aree rurali? In questo video parliamo di sovvenzioni, contributi pubblici e finanziamenti per progetti che riguardano le aree rurali e la montagna. Da anni ci sono varie iniziative per aiutare queste zone, da livello nazionale fino agli enti o gruppi locali. Però la situazione generale non è che migliori molto. Anzi, ma perché accade questo? E cosa puoi fare anche tu per cambiare questa situazione? Ci sono molte iniziative valide, come il DDL montagna presentato dal governo nella prima versione a fine ottobre 2023. Questo disegno di legge stabilisce le strategie e le misure per lo sviluppo economico dei territori di montagna. È la strada giusta da seguire, però non basta perché lungo il percorso ci sono alcuni ostacoli che vanificano sempre tutto. Gli ostacoli sono rappresentati da tutti quegli enti e organizzazioni che si occupano materialmente della distribuzione delle risorse. Quelli che hanno soldi da gestire e li indirizzano verso settori sbagliati o li assegnano in base a criteri perlomeno discutibili, finendo, per disperdere tutto, in mille rivoli totalmente inutili. Questi enti ed organizzazioni assegnano i fondi sulla base di punteggi stabiliti in modo ridicolo, senza dare importanza ai veri fattori di crescita di un territorio. Gli esempi sono tantissimi e sotto gli occhi di tutti. Il primo errore che fanno è quello di stabilire i beneficiari in base a specifici settori di appartenenza, che so, le attività commerciali, le aziende agricole, gli artigiani, senza fare vere analisi per individuare le attività obsolete, quelle insostenibili economicamente e quelle totalmente inutili. Ad esempio, se consideriamo come destinatari di una specifica misura le attività commerciali, sbagliamo perché all'interno di questa categoria si possono fare mille distinzioni e su queste basi andrebbero stabiliti i settori di intervento in modo ben delimitato. Se consideriamo le aziende agricole, anche qui dovremmo fare mille distinzioni perché non ha senso sostenere decine di attività senza futuro regalando pochi euro a tutti. Sarebbe molto più opportuno sostenere solo quelle che hanno progetti veramente validi e possono veramente crescere. Poi c'è il discorso dei punteggi che si usano per stabilire le graduatorie per le domande di contributo. Se analizziamo i parametri normalmente applicati, possiamo solo definirli ridicoli, anacronistici, creati da incompetenti e anche peggio. Cosa è senza senso ai fini della valutazione efficace di un progetto a finanziare, come ad esempio l'età dei richiedenti. Parametro assolutamente ridicolo perché ci possono essere trentenni che presentano progetti di merda e ottantenni che grazie anche a conoscenze e competenze acquisite in una vita possono sviluppare progetti molto più sensati e soprattutto sostenibili economicamente. Per risolvere questi problemi che si trovano nella parte finale del percorso delle misure di sostegno alla montagna o all'aria interna in generale bisogna semplicemente rivedere i metodi e i criteri adottati per individuare i settori di intervento e i parametri per creare le graduatorie. Per farlo servono veri esperti che abbiano conoscenze e competenze adeguate, altrimenti buona parte delle sovvenzioni, dei contributi, ai finanziamenti continueranno ad essere sprecati. Servono veri esperti perché non basta la buona volontà del pensionato dell'ex commerciante assurti a presidente o direttore generale di qualche organizzazione per far qualcosa di veramente utile per i territori. Quindi in quello che puoi fare anche tu per evitare che le aree interne continuino a morire nonostante lo spreco di soldi che sono anche tuoi è rompere i coglioni in sesso positivo si intende, cioè informarti, verificare, partecipare per rompere i coglioni e evitare che vengano applicati i soliti metodi che si sono dimostrati ampiamente fallimentari. Non è che la gestione dei progetti territoriali e l'elargizione di fondi pubblici sia di esclusivo appannaggio dai soliti noti. I soliti noti spesso sono anche tuoi dipendenti perché anche tu contribuisci a pagargli lo stipendio, quindi fai sentire la tua voce a ogni livello e in ogni situazione possibile affinché le cose cambino e possono cambiare. Fammi sapere cosa ne pensi lasciando un commento. Non dimenticare un like e la condivisione di questo video per renderlo più visibile a tutti. Se non conosci il canale youtube rurale digitale tocca questo logo per visitarlo, iscriviti e attiva le notifiche così non perderai la prossima puntata e potrai partecipare alle dirette. Il prossimo video che ti consiglio è questo. Per contattarci vai sul sito ruraledigitale.it